Un saluto a tutti Ciao a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il telegiornale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, ciozzalorossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, potete inviarci video, potete inviarci anche messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia, perché a Vallefoglia è stata una settimana interamente dedicata agli screening di massa completamente gratuiti che si sono tenuti alle palavitrie di Montecchio dalle 16 alle 21 di gennaio. Nella soddisfazione generale, tra tamponi effettuati e rapporto positivi-negativi, è intervenuto il sindaco di Vallefoglia, Palmirocchielli, oltre ad alcuni cittadini che ci hanno raccontato la loro esperienza e le perché hanno deciso di effettuare il tampone. La gente ha partecipato, è un servizio eccellente, c'è una buona soddisfazione. Non ho sentito persone che hanno criticato sia le strutture dell'Asur, che hanno fatto un lavoro straordinario, sia anche le persone che si sono impegnate come i comuni per l'allestimento, la predisposizione del palavitri e l'organizzazione dei parcheggi. Mi pare che alla fine sarà su un 15-20% forse la partecipazione, considerando che questa è un'area dove tutti quelli che vengono a lavorare dalla provincia avevano già fatto i tamponi perché appena c'era uno che era positivo le aziende facevano fare a loro spese tutti i tamponi. Quindi direi bene e poi diciamo che questa location, come si dice oggi, è propedeutica anche ai vaccini quando arriveranno. Ecco, diciamo questo qui è il primo step, quello degli screening e poi ci sarà anche un po' l'appello quando arriveranno i vaccini a tutti i cittadini di farlo. Io penso che come tutti i vaccini vanno fatti, non è obbligatorio ma è come se fosse obbligatorio, perché se io non lo faccio posso infettare un altro. Quindi diciamo che l'appello fatto dal padre, santo padre, dal papa è un appello a farlo. Io credo che tutti noi dovremmo invitare a fare i vaccini. Diciamo che rispetto alle due fasi precedenti, in cui si è registrata un'affluenza complessiva alla fine più o meno intorno al 20%, con una percentuale di soggetti positivi inferiore all'1, 0,8-0,9%, considerando che è una popolazione totalmente asintomatica. In questa fase che interessa i comuni di Vallefoglia, Gradara e specularmente Terre Roverischi, Orciane e Monte Felcino, c'è un lieve calo di affluenza. La percentuale di positivi è sostanzialmente la stessa, ma l'affluenza rispetto alle altre sedi è un pochino in calo. Nella fattispecie di Vallefoglia questo è parzialmente spiegabile, con il fatto che ci sono molte grandi aziende, nelle quali avvengono già periodicamente screening dei lavoratori. Sono aziende con un'alta popolazione lavorativa, quindi questo probabilmente ha sottratto affluenza al sito di Vallefoglia. Comandata e com'è mai ha scelto di venire? Per avere una soddisfazione personale, va bene, è andata benissimo, non ha fatto neanche male, è quella che ci vuole, anche per stare più tranquilli. Ho scelto di aderire innanzitutto perché siccome sono un commerciante, sono sempre tra la gente, quindi alla prima occasione ho profittato per fare questo controllo che non avevo ancora neanche mai fatto, non ero stato chiamato e non l'ho mai fatto. L'iter è scorrevole, funzionale, è bello organizzato, se non arrivi con il foglio compilato te lo compili lì, è una cosa, 5 minuti insomma, via. Poi c'è il quarto d'ora di relax in attesa dell'esito, benissimo, tutto molto bene, grazie all'organizzazione, grazie a tutti. Ritorno al mio lavoro sapendo di essere un negativo, quindi per il momento è viva la vita, è viva il 2021. L'esito è stato negativo, quindi va bene, mi ha mandato su WhatsApp la Michela Vitri che questa mattina facevano il tampone, quindi me la sono sentita divenire perché volevo sapere il risultato, tutto qui, è andata bene. Negativo perché sì, se è negativo uno esce subito, si fa abbastanza presto. Tutto è stato abbastanza veloce, molto ben organizzato, circa un quarto d'ora ho fatto tutto. Uno screening che è sì terminato a Vallefoglia ma prosegue in questi giorni in varie zone dell'entroterra della provincia di Peser Urbino. Un monitoraggio che per volontà dei consiglieri della Regione Marche è stato allargato anche agli studenti e al personale scolastico per garantire un ritorno a scuola in maggiore sicurezza. Sì, siamo molto contenti, è un provvedimento molto importante che permette anche alle categorie dei giovani, del personale scolastico e del personale ATA di avere una garanzia in più per il ritorno a scuola, quindi molto bene, complimenti e ringraziamo gli operatori sanitari, tutti i dipendenti dell'area vasta che stanno portando avanti un'organizzazione assolutamente ottimale, quindi non possiamo che essere qui per cercare di sostenere questo progetto ulteriore a salvaguarda dei nostri giovani, delle nostre famiglie e del personale scolastico per riprendere quanto prima e tornare alla normalità. Una campagna, quella della Regione Marche per quanto riguarda gli screening di massa, che sta continuando ma soprattutto sta funzionando per il monitoraggio. Assolutamente sì, è uno strumento importante per la tracciabilità di questo virus, quindi proseguirà chiaramente qui in Valle Foglia, ma anche in tutti i punti dei comuni minori dove era già stata programmata. È uno strumento molto importante, è uno sforzo molto importante da parte della Regione, dell'assessore Salta Martini, di tutta la Giunta e di tutta la maggioranza. Quindi è importante che i nostri studenti partecipino a questa grande operazione per tornare a scuola in maniera sicura, quindi siamo qui come consiglieri, di maggioranza, eletti nella provincia di Pedalurbino, a testimonianza dell'importanza di questa operazione affinché tutti i cittadini continuino a partecipare nei punti predisposti dall'area vasta. Quindi un invito particolare ai nostri giovani studenti affinché partecipano a questo screening per tornare a scuola in sicurezza perché è bene individuare i positivi asintomatici ed è bene che la curva del contagio caglia il più presto. L'invito, come hanno detto i miei colleghi, è quello in particolar modo rivolto agli studenti, al personale docente ATA, il primo possibile di venire a fare i tamponi rapidi per riaprire le scuole in sicurezza. Ci tenevamo invito sicuramente a tutta la cittadinanza ad aderire. Rispondo al sindaco Ricci che non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, pertanto tutti i comuni piccoli che ancora non hanno avuto questa possibilità dello screening rapido, del test rapido, è importante che si faccia. Quindi l'area vasta è uno e io rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli operatori, è impegnato a continuare lo screening di massa anche nell'entroterra della nostra provincia di Pesururbino. Quindi l'invito è ad aderire a questa campagna promossa dalla Regione Marche e dal Servizio Sanità del Assessore Saltamartini. Ed il Comune di Vallefoglia, nella giunta comunale tenutosi proprio questa settimana, ha approvato il bilancio pluriannale di previsione 2021-2023 con solo i due voti contrari. Garantendo il pareggio di bilancio, sono stati mantenuti tutti i servizi, le tariffe sono rimaste inalterate e sono stati confermati importanti investimenti, tra cui la costruzione del nuovo Comune, il nuovo Cinema Teatro Auditorium per la Musica, la riqualificazione di piazza della Repubblica Montecchio e la prosecuzione dei lavori dimessi in sicurezza delle strade comunali, prevedendo una spesa di oltre 600.000 euro. Per quanto riguarda invece l'ambiente, importanti interventi riguarderanno la metanizzazione e la depurazione di Montefabbri e della zona a monte di Colbordolo, l'ampliamento delle depurature di Montecchio e la messa in sicurezza delle fiume Foglia con la realizzazione di aree di laminazione. Ed una buona notizia in questi inizi 2021 è quella che riguarda le Comune di Montellabate e il record di contributi ricevuto per la costruzione della nuova scuola di Osteria Nuova. Inoltre, sulle fronte sicurezza, verranno presto installate circa 30 nuove telecamere per il potenziamento dei controlli. Sì, abbiamo ottenuto dal Governo il nostro contributo inerente alla costruzione della scuola primaria di Osteria Nuova di 1.100.000 euro. Questo contributo che abbiamo ottenuto è uno dei contributi in assoluto più alti che il Comune di Montellabate abbia ricevuto e lo intendiamo investirlo già da quest'anno su delle opere. Quindi sono già segnate nel piano triennale delle opere pubbliche. Procederemo con la realizzazione del marciapiedi sulla via provinciale a Osteria Nuova, la conclusione del secondo stralcio dell'impianto sportivo a Osteria Nuova e la realizzazione della piazza con la riqualificazione del Parco Omburga a Montellabate. Inoltre abbiamo già messo in atto la riscossione della fiduzione inerente all'area MR1A, sarebbe un quartiere qui a Montellabate che le opere devono essere concluse. Quindi, visto che è scaduta la convenzione, abbiamo già chiesto la riscossione della fiduzione all'assicurazione e proprio in questo ambito di realizzazione delle opere mancanti stiamo valutando l'espansione e la realizzazione del pezzo mancante dell'asilo. costruito in via Don Milani. Certamente questo non verrà realizzato nel 2021, verrà iniziata la progettualità perché comunque dobbiamo anche tenere conto dell'impegno che poi gli uffici si devono mettere nella realizzazione dei progetti, nel seguire i cantieri e tutte queste cose. Cerchiamo comunque di rinvestire i contributi che abbiamo ottenuto questi, quelli inerenti alla mensa biologica, quelli inerenti all'educazione e ai servizi educativi, certamente sul territorio e dove è possibile anche nel sollevare le famiglie da restituire piccoli contributi che ci hanno dato la regione. Capitolo sicurezza perché verranno installate anche telecamere intorno al comune. Sì, allora questo è un progetto che invece abbiamo già approvato e finanziato nel 2020 e prevede l'installazione di 30 telecamere su tutto il territorio comunale, sarebbe Apsella, Montelabate, Osteria Nuova, credo che qualcosa vada anche a Borgo Marcellino, non ricordo, abbiamo provato a partecipare a un progetto sulla sicurezza, un bando, per pochissimi posti non siamo rientrati, è un progetto comunque che vede un esborso comunale di 180 mila euro perché comunque sono telecamere in alcuni punti dove viene rilevata la targa, in altri punti viene effettuato il controllo di, come posso dire, se i mezzi sono in regola e queste cose qui. Sono già iniziati i lavori perché comunque bisogna fare tutta l'installazione dei pali in quanto le telecamere non possono essere agganciate sui pali della pubblica illuminazione. Prevediamo entro la fine di febbraio di essere a regime con tutto. E nella mattinata di giovedì 21 gennaio, il sindaco di Vallafoglia, Palmirocchielli, assieme a tutta la giunta comunale, ha voluto ricordare il 77esimo anniversario dello scoppio di Montecchio. Il 21 gennaio 1944, Montecchio fu devastato da un drammatico scoppio della polvediera tedesca, che sconvolse la vita dei 600 abitanti della piccola frazione dell'allora comune di Sant'Angelo, in Elizzola e delle località limitrofe già duramente provate dalle conflitte bellico della Seconda Guerra Mondiale. Lo scoppio, il cui boato si è sentito fino a Fano ed Urbino, causò la morta ancora oggi imprecisata di circa 34 o 35 persone, di cui 4 militari italiani e un soldato tedesco oltre a 100 feriti. L'amministrazione comunale, in maniera più sobria rispetto agli scorsi anni, si è recata presso il luogo dove sorge il monumento che ricorda lo scoppio, per depositare una corona e ricordare il sacrificio di quanti persero la vita in quella triste circostanza. E con il nuovo DPCM che sarà in vigore fino alle 5 marzo, l'attività di piscine e palestre resterà chiusa alle pubbliche fatte eccezioni per gli atleti professionisti. Un caso, come quello della piscina Pian del Bruscolo, dove l'attività prosegue con circa un centinaio di atleti che possono continuare con i loro allenamenti. Il nostro impianto è aperto già dal 30 di novembre con grande impegno e sacrificio, appunto nel rispetto delle norme, perché solo atleti, agonisti e professionisti possono utilizzare l'impianto. Purtroppo tutti gli altri utenti, con grande sacrificio, devono rinunciare all'utilizzo dell'impianto, nonostante le tante esigenze di salute specialmente. Quando parliamo agli atleti professionisti, un numero circa indicativo di quanta gente continua comunque ad allenarsi in piscina? Attualmente l'impianto è frequentato da circa 100 utenti, suddivisi in tre attività macro che sono nuoto sincronizzato, palla nuoto, nuoto agonistico e nuoto settore master. Tutta la parte invece dei non-anagonisti va anche a incidere dal punto di vista economico per la gente che frequentava saltoremente la piscina? Assolutamente sì, purtroppo quello che riguarda le entrate e l'attività economica è assolutamente in crisi, in quanto la nostra utenza giornaliera è almeno di 400 utenti. Attualmente, considerando i turni dove non tutti gli atleti si allenano tutti i giorni, abbiamo una frequenza media di appena 50 utenti. Sappiamo già che fino ad inizio marzo piscine e palestre resteranno chiuse, nella speranza che possano riaprire il più presto. Sì, questo è un dato che conosciamo. La Polisportiva si è fatta impegno di garantire l'apertura dell'impianto per gli atleti. Le famiglie di questo ci sono altamente riconoscenti, purtroppo vorremmo accontentare tutti gli altri che in questo momento sono costretti a non frequentare l'impianto e a non poter usufruire dei benefici dell'acqua. Per chi magari aveva un abbonamento con la piscina? Gli abbonamenti al momento sono congelati, le persone che ci hanno contattato hanno già avuto la risposta che l'abbonamento verrà prolungato senza nessuna perdita di nessun genere. Ovviamente appena l'impianto potrà riaprire e appena gli utenti stessi decideranno di poter tornare nel rispetto della loro serenità e sicurezza, nel rispetto dei protocolli e speriamo che ciò avvenga entro brevissimo. E ora concludiamo parlando di sport. Nelle campionate di Serie A2 di Volley Femminile, la prima partita del nuovo anno coincide con una sconfitta per la Megabox Vallefoglia, battuta alle tie-break sulle campi della Balducci e Macerata per 3-2. Una sconfitta che permette comunque alla squadra di Cozzo e Fabio Bonafede di restare alle comande della classifica con 33 punti a 4 lunghezze di vantaggio di Cutrofiano che ha però una gara in meno. Nel prossimo turno la Megabox tornerà a giocare alle palle di Nisi di Montecchio contro la CDA Talmassons. E siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Volley Foglia Magazine. Io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo, le 29 di gennaio e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.